Quella fra Amedeo Preziosi e Roberic non sembra essere più soltanto una normale convivenza Dato che sono giorni ormai che vivono insieme E ci sono delle cose che fanno pensare che ci sia qualcosa di più oltre che la semplice amicizia Dalle storie abbracciate sul divano Al fatto che dormano insieme Ai tiktok di Roberto dove ci prova con Amedeo Ma non serve che aggiungo altro Voglio che siano voi stessi a valutare la situazione Visto che non c'è ancora nulla di certo né in positivo né in negativo Vi lascio quindi i filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea studio Allora Roberta ha detto che mi offriva la cena Quindi adesso spenderemo Tu me l'hai detto Ma non rompere i coglioni Spenderemo 7 milioni di euro Che ooo a quand ce tu le